Probabilmente avete già avuto occasione di provare e conoscere la nostra bevanda culto Forever Aloe Veragel nella sua nuova formulazione. Adesso vi vorrei presentare il fresco e fruttato Forever Aloe Berry Nectar, ora in una nuova formulazione e un innovativo look. Berry Nectar contiene attualmente il 90,7% di puro Aloe Veragel, è ricco di vitamina C, non contiene conservanti e combina i benefici del mirtillo rosso e delle mele in un unico prodotto. Prima di tutto vorrei spiegarvi cosa rende la nostra Forever Aloe così speciale. Tutte le nostre 50 milioni di piante di Aloe Vera provengono dalle nostre piantagioni e sono coltivate, raccolte e filettate a mano per estrarre delicatamente il ricco gel fogliare entro poche ore. Questo per potervi fornire il gel di Aloe Vera più puro e più fresco. Questo particolare processo conferisce ai nostri prodotti all'Aloe Vera una consistenza e una purezza del tutto particolari, motivo per cui i nostri prodotti sono stati i primi a ricevere il sigillo dell'International Aloe Science Council. Il contenuto di Acemannano, un polisaccaride importante per il corpo, richiesto per questa certificazione, nel nostro Aloe Vera Gel è due volte più alto del richiesto. Lo sapete che un bicchiere di Forever Aloe Berry Nectar contiene quasi il doppio di vitamina C rispetto a un bicchiere di succo d'arancia? La vitamina C aiuta a mantenere un sistema immunitario normale e a ridurre l'affaticamento, rendendo Forever Aloe Berry Nectar la tua fonte di energia ideale. È un'ottima alternativa al succo d'arancia. Inoltre, un bicchiere di Forever Aloe Berry Nectar da 150 miele copre il fabbisogno giornaliero di vitamina C. Nelle giornate particolarmente stressanti o ogni volta che si vuole fare qualcosa di speciale per se stessi, bevetene anche un bicchiere in più. Questa bevanda è senza glutine, contiene vero succo di frutta concentrato di mirtili rosse e mele, è adatto ai vegetariani e ai vegani, ed ora è disponibile in un pratico imballaggio poco ingombrante. Il nostro Tetra Pak è costituito da sei strati di materiale riciclabile e utilizza meno risorse per la produzione e per il riempimento. Inoltre, ci ha dato maggiore versatilità. Il nostro Forever Aloe Berry Nectar è ora completamente privo di conservanti. Ci si potrebbe chiedere come funziona esattamente. Nel nostro nuovo processo di produzione, il gel grezzo delle foglie di aloe viene estratto entro sei ore dalla raccolta e in seguito riscaldato molto velocemente. In questo modo, germi e batteri vengono rimossi in modo sicuro, lasciando intatta la sua freschezza. Una volta che gli ingredienti aggiuntivi vengono integrati con il gel, il prodotto viene riscaldato una seconda volta per garantire che questi ingredienti non alterino la qualità. Tetra Pak ci permette di offrire una formulazione del nuovo prodotto senza l'utilizzo di conservanti chimici. In questo modo, Berry Nectar può essere prodotto in modo ancora più delicato, ma ottenendo più sostanze nutritive. Il nostro Forever Aloe Berry Nectar contiene il 90,7% di puro gel di aloe vera, ancora più naturale, più fresco e fruttato per te e per i tuoi cari. Ti auguro buon divertimento e tanto benessere con i prodotti di Forever. Grazie per la visione di Forever.